Un saluto a tutti da Rick e eccoci di nuovo nel fantastico mondo di Clash Royale. Oggi apriremo diversi bauli e cercheremo di prendere ovviamente le leggendali. Sono sicuro di prenderne una, chissà se ne usciranno un'altra. Quindi incominciamo ad aprire i bauli più scarsi fino ad arrivare ai bauli più grandi. Allora, incominciamo con questi bauli omaggio. Allora, bauli omaggio, primo bauli omaggio, oro, gemme, stregone, cavaliere. Passiamo al secondo bauli omaggio. Oro, arete della battaglia e tesla. Niente di che. Ora apriamo questo baule argento. Oro, metteremo schettieri e frecce. Direi di aprire il baule della corona. Oro, gemme, razzo, gigante royal, capanna di barbari e barbari scelti. Quindi ho un baule in sospesa di qua. Ecco qui, apriamo questo baule della sfida classica. Oro, goblin lancieri, scarica e fornace. Ora andiamo ad aprire i bauli più seri. Quindi cominciamo con Baule gigante. Oro, bombarolo, cucciolo di drago, goblin e fornace. Ora abbiamo questo magnifico baule. Siamo pronti? Marine goblin. Congelamento. Boia. E infine... Guardia. Ok, adesso come abbiamo promesso all'inizio del video, adesso andiamo a prendere la nostra leggendaria. Quindi andiamo di qui. C'è un baule leggendario in offerta. Lo prendiamo. Pagliamo i 500. Ooooooooh. Mastino lavico, mi mancava. Meraviglioso. 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 Allora, io direi di fare una battaglia veloce. Ok, parlerò poco e lascerò il sonoro che si sente. E abbiamo distrutto la prima torre. Ora seguiamo la lapide contro il mago. Aspettiamo che arriva. Ecco qui. Pah. Pregate il mago. Una bella macchina di difesa. E' la palacchina. Abbiamo poco elisir, come vedete, si sta ricaricando. Dobbiamo aspettare che si ricarica. Il nostro nemico è abbastanza danneggiato. Sicuramente giù di morale. Quindi adesso... Si sta caricando. Vabbè. Noi aspettiamo, non è lui che deve fare la mossa. Ecco qui. Va bene la lapide. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. E' vittoria. Yeah. Il corone. E quindi non mi resta che salutarvi. Al prossimo video, alla prossima apertura di leggendarie. Un grosso saluto da Rick. Ciao! Al prossimo video, al prossimo video, al prossimo video, al prossimo video. Grazie.